Questo è Sandro Canna e questo è un venerdì sera, d'inverno, vado in bagno perché ho chiuso anche il bagno nella via e perciò devo andare fino in fondo alla via con il gelo, serata vergognosamente vuota, in tutto il giorno abbiamo fatto una patatina fritta e questo è quello che succede qua da quando non ci sono più aziende. Prima almeno facevano i pranzi di Natale, i pranzi di fine anno, i cene di fine anno, adesso basta. Ed è così qua questa città ragazzi, era difficile prima ma adesso è impensabile, vediamo se con l'anno prossimo succede il miracolo. Questi abbiamo fatti nuovi per mettere dentro un ristorante e roba, sono chiusi e apriranno probabilmente quel nuovo anno cinese, non lo so. periodo così magro non lo ricordo neanche durante il che vado, veramente disperazione. qua non ci sono neanche i banchetti e bancarelle, è venerdì sera vero ragazzi, venerdì sera, non c'è niente. deserto, deserto, deserto e disperazione. deserto, 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 deserto e disperazione, è venerdì sera vero. e ecco qua, andiamo in bagno, ci vediamo il prossimo video ragazzi, ciao. Grazie.